Anche Pordenone ha celebrato con una cerimonia ufficiale il 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Le autorità hanno depositato in piazza Ellero dei Mille una corona di fiori al monumento ai caduti. A tenere i discorsi sono stati il presidente della federazione combattenti e reduci Mario Zanetti, il prefetto Maria Rosaria Maiorino e il sindaco Alessandro Ciriani. Quest'ultimo, rimarcato come il 4 novembre, rappresenti anche la vittoria dell'Italia nella Grande Guerra, un evento bellico enormemente tragico che ha però formato l'identità e la coscienza nazionale grazie al sacrificio dei nostri soldati. È una festa anche da riscoprire perché rappresenta secondo me la vera festa degli italiani, la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Dobbiamo ricordare che in quelle trincee, in quel sangue, anche se inconsapevolmente si è plasmato il cemento che poi ha creato l'Unità Nazionale e ha compiuto il risorgimento. È anche un modo per riscoprire l'orgoglio di appartenere ad una grande nazione, per riscoprire l'amor di patria. Sono sentimenti che cementano e collano una comunità. Le celebrazioni si sono svolte alla presenza di militari e associazioni d'arma. Presente è anche una delegazione di studenti delle superiori a cui si sono aggiunte alcune classi dei bambini della diecente scuola primaria Gabelli.